Se volete vedere scorrere il sanque va bene, vi accontento anche in questa situazione, vi farò vedere scorrere il sanque perché io non ne posso più. Ce l'ha con il comune di Pescara, Patrizia Orsini, la donna a cui circa un anno e mezzo fa bruciarono l'auto in una notte nel quartiere Rancitelli, a seguito di alcune denunce riguardo l'attività di spaccio. La donna spaventata ha chiesto un alloggio popolare in un quartiere diverso, ma le è stato proposto un posto in albergo, soluzione che lei ha rifiutato perché comporterebbe la separazione dai suoi animali domestici. Che gente abbiamo noi al comune? Senza cuore, senza un'anima, niente proprio, niente. Si lavano e scrollano le spalle dicendo ma tanto adesso è tutto a posto, non è a posto niente. Lei ha ricevuto altre minacce da quando le bruciarono? Certamente no, assolutamente no, però io me lo sento addosso il loro fiato, ti guardano con l'occhio un po' capito a me adesso. Al fianco di Patrizia Orsini c'è il suo legale, pronto a intraprendere azioni contro il comune se ce ne fossero gli estremi, ma anche il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari che continua a chiedere sgomberi e controlli. La centrale di spaccio di droga più importante del centro sud d'Italia, una di quelle più importanti del centro sud d'Italia. Lì vivono cittadini onesti che non ce la fanno più, cittadini costretti a subire, cittadini che hanno anche dovuto patire, subire veri e propri attentati alla persona, come dico io, attentati al patrimonio personale. Le macchine bruciate non solo, le abbiamo sempre denunciati da anni, ma lì continuano ad essere spacciatori di droga che occupano abusivamente gli alloggi popolari, di cui non hanno bisogno. Aggiungo che su Pescara abbiamo 100 appartamenti vuoti di proprietà pubblica, popolari, che dovrebbero essere assegnati a chi ne ha diritto, quindi sfrattare gli occupanti abusivi, mettere persone che hanno diritto all'interno di case popolari ed assegnare gli appartamenti vuoti. Non è possibile, questi gridano vendetta, 100 appartamenti vuoti in una città murati che non vengono assegnati quando ci sono oltre 700 persone, udite, udite, in graduatoria persone con disabili, con famiglie che aspettano di avere un alloggio popolare. Secondo i progetti del comune, il ferro di cavallo sarà presto abbattuto e al suo posto, assicura il sindaco Masci, non ci sarà nuovo cemento. Ma Patrizia Orsini ha paura e non vuole attendere. Permettetemi di cambiare casa, ha detto la signora. Noi dall'inizio andavamo al comune a reclamare. Sai cosa ci rispondevano? Pensate per voi. E questo l'hanno combinato loro, con il loro manifreghismo e il loro modo di scrollare le spalle. E adesso noi paghiamo le conseguenze, questo non è giusto, assolutamente no.